Nuova ondata di attentati in Iraq. Sale il numero delle vittime degli attacchi compiuti questa mattina a Baghdad e nei soborghi della città. Almeno 44 i morti, un centinaio i feriti, stando a un bilancio ancora provvisorio. Secondo fonti della polizia, locale le esplosioni avrebbero colpito per lo più i quartieri sciiti. L'attentato principale è avvenuto a Academia, una zona nel nord-ovest della capitale irachena, dove si sarebbero registrate sette vittime e una trentina di feriti. Negli ultimi mesi in Iraq si sono riaccese le violenze tra sciiti e sunniti. Dall'inizio dell'anno oltre 3.000 le persone uccise, circa 1.000 le vittime di attentati nel solo mese di luglio. Un bilancio che fa del 2013 l'anno peggiore dopo il 2008.